Pronto. Sì, sono io. È mio figlio, sì. Renato è guasto. Si dimentica sempre tutto. A volte è anche come si chiama. E forse non dobbiamo lasciargliela più. Che fa Beatrice? Dorme? Sì, tu torna presto però che non mi piace stare da sola. Ma non sei più da sola adesso. Non fare il furbo. Torna presto, ti prego. Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare? Scusa? Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto a questo periodo. Francesca! Deve essere successo qualcosa nel parco e Francesca non ce lo racconta. Quando li ho trovati c'era qualcosa di strano in Renato che non ti so spiegare. Abbiamo sbagliato tutto. Questi anni senza di lui sono stati orribili. Non si può costringere una donna a scegliere tra il marito e il figlio. E io ho scelto. Ormai mi sto abituando. Anche se a volte dopo un po' che stiamo sole io e lei, senza parlare con nessuno, comincio a sentirmi strana e mi faccio paura da sola. Monica, c'è qualcuno con te? C'è mia madre. Monica, tua mamma è in clinica. Per favore, dimmi dove sei. Vengo a prenderti e torniamo a casa insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.